Per far capire un po', Robben non ha guardato per niente Cech perché Cech si è mosso talmente prima che nella corsa tu hai la capacità che il portiere si è mosso, che devi avere la visione della palla, ma il portiere, certo che poi ha il portiere quando devi andare a calciare, però non molto prima, perché se il portiere parte prima e tutti li li potrebbero fare, tant'è vero che Cech era...